Sono Guido Arari, siamo a Sifest e questa è la mia mostra su Fabrizio D'Andrea, Sguardi e Randaggi. Raccoglie le mie fotografie di Fabrizio su un arco di 40 anni, dalla tournée con la PFM del 1979 fino all'ultimo tour di Anime Salve. Sono degli sguardi e randaggi perché sono stati scattati senza delle strategie particolari, semplicemente documentando i momenti autentici della nostra vita, delle conversazioni che abbiamo avuto e un reportage anche sulla backstage delle tourne. Tra le tante fotografie questa è quella a cui tengo di più, una di quelle a cui tengo di più perché ha segnato proprio il nostro rapporto all'inizio della nostra collaborazione di vent'anni. È una foto non creata apposta ma accorta al volo con Fabrizio che durante le prove al Palasport di Bologna si era addormentato contro questo termossifone e non si era mai visto D'Andrea in questo modo. Probabilmente assomiglia anche al personaggio di qualche sua canzone, colto senza molta ufficialità. e voleva anche chiusarla sulla copertina del disco con la PFM parafrasando il pescatore scrivendo con un'esposta al radiatore se era soppito il cantautore.